Sfogliamo ora insieme i quotidiani che troviamo in Edicola, il Corriere della Sera, in primo piano Schengen in Bilico per due anni, la ministra austriaca, il trattato sta per saltare, Malfano per ore salvo, migranti, sei paesi, prorogare i controlli, dossier sul rischio attentati, 5.000 militanti dell'ISIS in Europa e l'analisi una vera trappola di un'ingiustizia per noi e la Grecia. E poi la cronaca direttamente da Roma, ieri il caso evacuato alla stazione Termini, fermato e poi rilasciato col fucile finto tra i binari, un'ora di paura a Roma. E vediamo in taglio alto l'allarme europeo sul debito italiano Renzi con me, 50 milioni di cittadini, il retroscena, la missione di Paduan per chiudere sulle banche, le parole di Schobel, la tentazione tedesca delle velocità separate, l'intervista ai capelli di Hillary e di Prezi di Sanders, quello che pensa e dice Obama. E poi c'è l'editoriale IDCD istituzionali, se il leader rompe gli equilibri. Vediamo ancora i viaggi, 10 ore di Pullman da Milano a Roma pagando solo un euro. Ma a fondo pagina c'è anche la svolta del Papa e l'abbraccio ai protestanti. Francesco parteciperà alla cerimonia congiunta per celebrare i 500 anni della riforma. La proposta del CDA, Freccero, Grillo, Torni, Allarrai e la capitale del 2017 italiana per la cultura, la sorpresa è Pistoia. Andiamo a vedere la prima pagina di Libero, la super tassa sui voli va tutta in marchette, schianta Italia, biglietti aumentati solo per finanziare la spesa e l'Europa minaccia Renzi, attento debito pubblico insostenibile, la lettera, la preghiera del Papa contro le nozze gay, questa è la lettera di Bergoglio in primo piano e ancora l'ammazzata su Schengen è iniziata la procedura che consentirà agli stati di chiudere le frontiere. L'Italia trattata da nemica all'Unione Europea ciclona i venidocchi con il voto del PD leva i dazzi all'olio tunisino e poi risarcimento i milionari, morti per l'amianto, Telecom presenta il conto a De Benedetti e la mappa dove si può fare la spending review ecco le finte pensioni di invalidità, quattro regioni alzeranno l'addizionale IRPEF salasso fino a 850 euro e poi all'interno ci sono le tabelle l'apre la pagina del fatto quotidiano, le indagini sulle banche, il governo vuole prendersi pure la finanza, le nomine al posto dello sgradito capolupo in ballo delle femmine, Toschi e Carta, intanto vediamo Bagnasco, giusto opporsi il New York Times, accusa il Vaticano sulle unioni civili i figli non sono un diritto ed il credito, il negoziato sulla Bad Bank si complica, Bruxelles avverte Roma stabilità minacciata dalle sofferenze bancarie e il monte dei Paschi, le vere mosse di Serra sono un bel mistero in taglio alto, Rouhani 17 miliardi e niente, diritti umani, visita blindata e nessuna domanda al presidente iraniano che appunto arriva a Roma, ha vietato toccare temi scomodi, la priorità è siglare contratti per le grandi imprese italiane che brindano alla fine delle sanzioni internazionali e poi la Nigeria, ora l'ENIS rischia di perdere il maxipozzo e misurata le milizie libiche stanno preparando la guerra pronti a combattere l'ISIS assieme all'Italia e le frontiere Schengen in pezzi ad Amsterdam, va in scena la crisi dell'Unione Europea intanto a fondo pagina i misteri siciliani, il caravaggio della mafia torna ma solo in copia questa era l'ultima notizia, vediamo quali sono le altre Grazie a tutti